Soldi in cambio di un posto di lavoro che non è mai arrivato. E' questa la truffa odiosa che ha distrutto le speranze di un posto a tempo indeterminato in banca di quattro ragazzi pescaresi adescati da sedicenti intermediari che con la complicità di alcuni dirigenti della BNL avrebbero architettato finti colloqui all'insaputa della banca. Il titolare di una autoscuola di Roma si occupava del reclutamento di questi ragazzi sul posto. Li veniva lì a trovare e poi gli chiedeva una somma di 5.000 euro per oliare i meccanismi burocratici per entrare sicuramente all'interno della banca. Ebbene anche a Pescara è successo questo. I quattro ragazzi coinvolti della provincia di Pescara che si sono rivolti a codici hanno pagato questa cifra e poi hanno sostenuto, come tutti gli altri in Italia, circa 15 colloqui presso la sede generale di Roma di questa banca e l'ultimo con esito positivo perché agli atti abbiamo un documento firmato BNL ma la procura dice che è un falso perché è stato falsificato dai responsabili di questa truppa dove gli si diceva cari ragazzi avete superato con esito positivo il colloquio finale e quindi tra poco verrete assunti. I quattro giovani che si sono rivolti all'associazione Codice Abruzzo fanno parte degli oltre mille caduti nella trappola per un giro d'affari complessivo di oltre 6 milioni di euro. L'inchiesta, nella quale la BNL si costituirà a parte l'ESA, è stata condotta dalla procura capitolina. L'associazione Codice ha messo a disposizione dei quattro ragazzi il suo ufficio legale e istruirà una class action alla quale sono chiamate ad aderire tutte le persone coinvolte in questo spreggevole raggiro. Noi abbiamo messo a disposizione il nostro ufficio legale, stiamo qui appunto a pubblicizzare questo evento dicendo che il nostro ufficio legale ora predisponerà le querele penali per tutti i ragazzi truffati e poi seguirà i ragazzi nel procedimento quindi della Costituzione di parte civile e nell'eventuale dibattimento per chiedere i danni causati da questa grande truffa. Contestualmente un'altra direttiva seguita da Codice è quella di lanciare oggi la prima class action in Italia.